Salerno Davide, vado di due, e Siri Mattia, Savona, in linea. Salerno Davide, che si muove a fare comando. Salerno Davide, che si muove a fare comando. Salerno Davide, che si muove a fare comando. Salerno Davide,alingo specifico, Salerno Davide, campagna. Salerno Davide, che si muove a fare comando e vicino a vivere attivarlo addosso. Bisogna, buongiorno. Gente, ok, con questa prima posizione.